Buongiorno da BTV News, oggi 21 aprile Sant'Anselmo d'Aosta è della giornata mondiale della creatività e dell'innovazione, World Creativity Innovation Day fondata a Toronto in Canada da Marcy Segal il 25 maggio 2001. Lo scopo di questa giornata era quello di spronare e stimolare le persone a utilizzare la loro creatività al fine di migliorare il mondo. Su questa scia nel 2017 le Nazioni Unite hanno disegnato il 21 aprile come giornata mondiale della creatività e dell'innovazione, includendo tutti quegli aspetti che accrescono il concetto di creatività e che rientrano nello sviluppo umano. Se pensiamo all'uomo e a quello che è stato il percorso evolutivo che l'ha portato a fine giorni nostri e che lo proietta verso il futuro, l'innovazione è ciò che gli ha consentito di evolversi costantemente, apportando continuamente modifiche a quello che era il precedente modo di vivere, rendendolo sempre più agiato e confortevole. Questa concezione applicabile a tutti gli ambiti di vita, da quello tecnologico a quello sanitario e a quello socio-relazionale, è ciò che accomuna tutti questi tumulti evolutivi e senza l'altro la creatività. Possiamo quindi addurre che creatività e innovazione siano due concetti altamente interconnessi, nonché due azioni conseguenziali. La creatività infatti è quell'elemento essenziale per produrre un cambiamento rispetto a quello che è l'aspetto attuale delle cose e facendo ciò genera un'innovazione, ossia un cambiamento.